La denuncia è partita da alcuni cittadini. Polizia locale e nucleo operativo radiomobile dei carabinieri hanno subito fatto la segnalazione ai proprietari dell'immobile. Si tratta di una società e mercoledì è stata sventata l'ennesima occupazione abusiva degli appartamenti al palazzone di via Lazio Montesilvano. Tre le persone che si erano intrufolate forzando la porta dei locali a piano terra dove si trova un'ex piscina. Il passaggio è stato murato così come sono stati murati alcuni ingressi interni degli appartamenti. Un blitz che il delegato alla sicurezza del comune Marco Forconi racconta così. Forconi quello che si trova alle sue spalle in pratica o meglio era l'accesso eccolo qui l'ho indicato benissimo che consentiva alle persone di poter poi salire negli appartamenti. Si consentiva a dei criminali di entrare qui dentro e noi non potevamo tollerare un ulteriore problema sociale che già avevamo risolto comunque a luglio dell'anno scorso. Quindi siccome questo purtroppo è un accesso di proprietà privata abbiamo comunque diffidato il proprietario dalla tempia insomma ai lavori di muratura affinché non potessero più entrare qui in questo vano. Quindi i lavori di muratura sono stati fatti dal privato su vostra segnalazione? Sono stati fatti dal privato su nostra segnalazione ovviamente con la presenza delle forze dell'ordine in particolare con due pattuglie della polizia locale e dei carabinieri che hanno ovviamente provveduto prima di murare a controllare a verificare se c'erano persone all'interno dello stabile che effettivamente stava accadendo. Quindi sono stati prima tolte queste persone e poi si è proceduto alla muratura finale. Quanto è accaduto due giorni fa? È solo l'ultimo intervento fatto al palazzone. Ancora Forconi. E questo invece era l'ingresso principale. Cosa è stato messo qui davanti? Qui è stata fatta una elettroferratura in cemento armato quindi impossibile anche da abbattere. Ovviamente perché? Perché siccome immaginavamo che ci potessero essere anche delle intrusioni, dei tentativi di intrusione anche successivamente allo sgombero, il Comune di Pescara giustamente, intelligentemente ha pensato comunque di predisporre una muratura molto imponente. A questo punto quale sarà il futuro del palazzone? Il suo destino è segnato. Questo stabile deve essere abbattuto. Non può essere riqualificato. Non è oggetto di riqualificazione. Ovviamente c'è un'asta che deve essere in corso, che deve avere un esito finale. Nel momento in cui ci sarà un vincitore, questo palazzo diventerà soltanto un bruttissimo ricordo.